Bella a tutti rega e benvenuti qui in un nuovissimo video su Fortnite Oggi giocheremo singolo sempre, come al solito E giocheremo singolo e mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete il like Perché rega siamo veramente ancora troppo pochi Ok buonanotte buonanotte ah quasi rica ok facciamo un'altra parte